Ma guarda che fantasia, che movimento. Si preoccupavano degli effetti scenografici. Che libertà straordinaria. Veramente bisogna che mi decida a piantarla con Ettore. Vorrei rimettermi a fare dei progetti. Avevo delle idee, sai? E perché è smesso? Ma perché, perché, perché... perché non è facile ammettere che un pavimento rosso sta bene in una stanza quando invece sei convinto del contrario? Ma la signora lo vuole rosso, perché c'è sempre una signora o un signore. E allora? Una volta poi mi hai ricaricato di fare i calcoli per la costruzione di una scuola. Un giorno e mezzo ci ho messo a farli. Ho guadagnato 4 milioni. E da allora ho continuato a fare i calcoli. dei riprogetti degli altri. Perché mi guardi così? Perché io invece sono convinta che tu potresti fare cose molto belle. Questo non lo so, non lo so. Ma a chi servono ormai le cose belle, Claudio? Quanto durano? Una volta avevano i secoli davanti. Oggi? Al massimo dieci, vent'anni e poi? No.